Quanto detto da Biasin, dell'incredibile, se vogliamo dell'incredibile, come il mio taglio di cappelli, mi sto abituando, mi sto abituando, poi da quando li ho tagliati mi sento meglio, come se fosse rinato un nuovo neschio, più giovane, più voglioso, forse anche no. Ritorniamo a quello che Biasin, noto giornalista interista, ha confidato un po' ai suoi seguaci su Twitter, pare che Nainggolan abbia svolto la seduta in gruppo, la seduta tattica. Capiamoci bene perché poi ho visto che c'è, per quanto la situazione sia abbastanza semplice da comprendere, non capisco perché non riesco mai a scambire, a comprendere. Nonostante ciò, molti tifosi fanno confusione, non fate allenare i cardi, perché non li fate più allenare, non è affatto vero. I cardi e Nainggolan si sono allenati regolarmente nei tre giorni, anzi mi tocca dire adesso nei quattro giorni, solo che ovviamente per quanto riguarda, per quanto concerne la parte tattica, a quella lì non possono presiedare, 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 presidiare, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ogni tanto vai in lapsus, presidiare, ce l'ho fatta. Sono un uomo felice adesso, sono un uomo veramente al settimo, non possono presidiare la parte tattica, no, quella ovviamente no, sono sul mercato, se l'Inter fa tattica, no, se Conte sta stravolgendo gli schemi, non lo so, Nainggolan, Unicardi venduto all'Aventus, guardate che adesso si stanno allenando in quel modo, è ovvio che andrebbe subito a spifferare tutto ai quattro venti, ed è ovvio quindi che un giocatore sul mercato non può, un giocatore almeno non può far parte, non può presidiare, come appunto dicevo, la parte tattica, assolutamente no, logico. Quindi non spariamo subito cavolata ai setteventi se non conosciamo i fatti, si possono allenare, la parte atletica, quella che chiamano, come si chiama, che tra l'altro ho fatto anche io da, seppur in prima categoria da giocatore direttantissimo, la preparazione atletica, quella si fa, quella si può fare, ma non la parte tattica. Quindi, come stavo appunto dicendo, nei primi quattro giorni, nei primi tre giorni, Icardi e Nainggolan sono stati sempre messi da parte, o meno, hanno fatto un lavoro differenziato quando appunto si svolgeva la parte tattica. Stasera, stasera, oggi, quanto pare Nainggolan ha partecipato, ha partecipato col gruppo anche alla seduta tattica. Nainggolan sì, Icardi ovviamente no. E quindi questo apre un mondo, cioè questo apre nuovi scenari, apre veramente nuovi scenari, apre un mondo, pazzesco. C'è da dire, in merito su Nainggolan, che oggi la moglie ha pubblicato sul profilo Instagram, che purtroppo sta combattendo una grave malattia, una brutta bestia, come appunto l'ha chiamata lei. E' da un mese che va avanti questa storia. Quindi non è un momento felice per Nainggolan. Non so se questo onestamente possa aver influito, non so se questo abbia delle conseguenze. Può anche essere, perché giustamente, quando ci sono queste situazioni, è ovvio che partire, cioè ti creerebbe un ulteriore scombossolamento, che credo in questo momento Nainggolan e famiglia non possono permettersi. Ovviamente quando si parla di queste cose, ragazzi, si scinde quello che è il Nainggolan giocatore e quello che è il Nainggolan marito. Che sia ben chiaro, questo sempre, per quanto io non tolleri la figura di Nainggolan e la sua condotta, appunto come giocatore dell'Inter, mi tocca dire, e voglio dire, che l'Inter è sempre stata una grande famiglia. E se c'è da tendere la mano in questi casi, io non avrei nessun problema, nessun problema a vedere ancora Nainggolan con la maglia dell'Inter. Ovviamente queste non sono scelte che spettano a me, ripeto, nonostante si tratti di un giocatore che io non ho mai tollerato per quanto ha condotta. Però a questo punto c'è da chiedersi cosa succederà, perché, perché, scusate, una domanda ce la poniamo, perché svolgere la parte tattica se sei sul mercato non andrà più via? Questo non posso dirlo. Però sicuramente qualcosa bolle in pentola, qualcosa bolle in pentola. Qualcun altro già ho sentito qualche, ho visto, ho letto qualche commento, dove si diceva, vedrete che succederà anche la stessa cosa con i cardi, poi verrà reintegrato. Io non credo, non credo proprio, anche se, come abbiamo ribadito, detto e ridetto mille volte, non si possono dare certezze, nulla è veramente confermato sempre al 100%, ci sono degli sviluppi e staremo lì, staremo lì alla finestra a valutarli. Però su Noinggolan credo che in effetti si sia fatto, si sia fatto un passo indietro, a meno che adesso Biasin non abbia detto una cavolata, magari non è vero, non è assolutamente vero che lui abbia, si sia allenato, questo non mi è dato saperlo, ma sicuramente ci saranno conferme o smentite in merito e su Biasin stesso non credo, non credo si inventi di sana pianta una cavolata del genere, non credo minimamente ad una cosa del genere. Quindi ragazzi, vediamo, vediamo un po', so che Noinggolan da molti è ritenuto un giocatore un giocatore che può, che può dare tanto, che può dare ancora tanto alla causa interista, lo so bene, perché molte volte siamo andati a cozzare con i tifosi della mia stessa squadra, per cui, per cui, non lo so, sicuramente molti tifosi accoglierebbero, accoglierebbero un suo, una sua permanenza a Milano. Niente, non aggiungo altro, non aggiungo nulla sul Lukaku, c'è stato questo primo contatto con il Manchester, sono a Londra, stanno valutando, stanno vedendo, si tira un po' per le lunghe, stessa cosa con Barella in stand-by, ma su Barella ovviamente sembra veramente un affare chiuso, vediamo un po', vediamo un po', stiamo qui ad aspettare, stiamo qui a vedere, e niente, io vi saluto con il solito abbraccio di Neschio, voi ovviamente commentate, likeate e iscrivetevi al canale. e iscrivetevi al canale. e iscrivetevi al canale.